La maggior parte dei fanesi quest'anno ha festeggiato il Capodanno in tranquillità, chi a casa propria e chi al ristorante. Ma nella notte di San Silvestro non sono mancati i fuochi d'artificio che hanno dato il benvenuto al nuovo anno insieme al suono del nautofono vista la fitta nebbia. Per fortuna non si registrano feriti e neanche danni. Nonostante forti boati si sono registrati in alcuni quartieri della città, le pattuglie della polizia locale di Fano hanno vigilato fino a tardanotte. Questo ha portato intorno alla mezzanotte fino poi comunque l'ora e mezza successiva un impegno da parte comunque degli agenti della polizia locale a inseguire un po' le varie situazioni, le varie chiamate in città comunque che denunciavano le esplosioni in diverse parti. Questo ha generato comunque un po' di fastidio ma non è stato neanche così semplice poi andare ad individuare sul fatto chi esplodeva questo materiale comunque esplosivo. Al di là di questo comunque è stato un Capodanno dove comunque i controlli sono stati molto rigorosi. La sera di Capodanno è stata anche caratterizzata dai controlli nei locali fanesi. Dall'inizio delle festività natalizie sono circa 250 le sanzioni effettuate. I controlli da sino ad oggi sono circa 250 o poco più e sono state diverse anche le sanzioni circa un 10% 25 sono circa le sanzioni delle attività produttive che sono state comunque colte diciamo non in possesso del Green Pass, in alcuni casi gli avventori e in quel caso la multa è di 400 euro. In alcuni altri come l'ultimo di questa mattina chi lavora nelle attività produttive che è stato trovato senza Green Pass e per loro c'è una multa di 600 euro. Inoltre ha precisato l'assessore sono in corso anche i controlli per l'utilizzo della mascherina all'aperto visto che le marche sono in zona gialla. Gli uomini della polizia sono al lavoro per trovare i responsabili dei nuovi atti vandalici al presepe del Pincio. Individueranno ed hanno già individuato per alcuni di questi tutti i responsabili che verranno comunque adeguatamente diciamo segnalati e poi comunque diciamo così puniti possiamo così dire nel modo più opportuno che le indagini comunque porteranno poi ad individuare.